salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qualche video fa ho portato l'unboxing di questi gli aeroplani di carta della power up e aeroplani di carta tecnologicamente avanzati perché nella versione 4.0 abbiamo addirittura la connessione bluetooth la possibilità di pilotare l'aeroplano con lo smartphone al giroscopio cioè veramente avanzato questo aeroplano per essere un aeroplano di carta e poi abbiamo questa la versione 2.0 una versione diciamo più evoluta del classico aeroplano di carta che tutti noi abbiamo costruito fin da quando andavamo a scuola all'elementari perché è un aeroplano di carta se vogliamo classico ma con l'integrazione di un motore che gli dà quel power up in più a livello di prestazioni e questa versione appunto è versione più easy quindi adatta per bambini da 8 anni in su anche proprio nel montaggio mentre ovviamente questa versione da 14 anni in su perché è una versione diciamo molto più evoluta dal punto di vista tecnologico iniziamo dalla versione 2.0 che si era già addocchiata mia figlia quando era arrivato il pacco e quindi iniziamo il montaggio da questo e il montaggio lo farà appunto lei diamo Sara vieni ecco lei è Sara e farà il montaggio della versione 2.0 quindi iniziamo da questo perché poi una volta montati li andiamo a qua abbiamo quello che è il caricatore dell'accumulatore che abbiamo qua dentro perché qua abbiamo un motore con un'elica e qua abbiamo una sorta di accumulatore che si va a ricaricare quando noi andiamo ad appoggiare questa sporgenza con scritto start vedete andiamo a fare ruotare l'elica perché diamo energia al motore ma in più questo essendo un accumulatore anche quando io lo vado a togliere vedete che l'elica continua a andare quindi l'aeroplano avrà un power in più rispetto a un volo classico senza nessuna spinta di nessun motore mentre l'altra sporgenza che abbiamo da questa parte serve per andare a fermare il motore vedete che se io lo inserisco il motore si ferma ma questo ovviamente lo installeremo una volta costruito l'aeroplano di carta quindi prendiamo le istruzioni che sono queste molto semplici qua abbiamo il QR code che ci permette di collegarci direttamente a un video della power up che ci fa vedere come piegare la carta per andare a costruire il nostro aeroplano di carta però abbiamo ovviamente anche le istruzioni cartacee poi andiamo a prendere uno dei due fogli disponibili all'interno della confezione per costruire l'aeroplano di carta e adesso ovviamente lasciamo il tutto nelle mani di Sara quindi come lo pieghiamo prima lo dobbiamo aprire poi si piega così poi facciamo una piega triangolare a pari delle due righe sempre triangolare e schiacciamo ok poi bisogna piegarlo e all'ingiù la punta ovviamente bisogna cercare di farlo il più preciso possibile con le linee che abbiamo per mantenere anche una simmetria tra lato destro e lato sinistro poi bisogna prendere questo angolo e portarlo alla linea bello preciso così poi stracciamo bene e facciamo la stessa cosa dall'altra parte pieghiamo questo angolino all'ingiù poi quando abbiamo piegato questo triangolino all'insù poi pieghiamo il tutto pieghiamo brava poi infine poi bisogna tirare e piegare in questo modo facciamo lo stesso con l'altro lato ecco schiaccia forte brava ok si che qua bravissima poi dobbiamo andare a tagliare queste linee nere per fare piegare i flap la forbice eccola qua stai attento a prova che devi tagliare solo fino alla fine della linea nera è bravissimo e stessa cosa di qua bravissima allora pieghiamo questi qui è brava e anche quell'altro sulla linea devi piegare la linea tratteggiata a posto e adesso dobbiamo montare il controllo no il motore il controllo ce l'ha il mio tu non ce l'hai controllo allora dobbiamo solo prendere la parte dell'accumulatore appoggiarlo qua e farlo scorrere ok ce l'abbiamo quasi fatta ok perfetto ce l'abbiamo fatta vedete che la punta adesso è fino arrivata in fondo a diciamo la posizione ideale perché alla fine va a in questo punto in cui non può più andare avanti e adesso abbiamo questa sticella che rimane un po' flessibile loro consigliano di mettergli un pezzettino di nastro in questo punto più o meno quindi andiamo a metterglielo non serve tanto lungo serve solo circa così prendiamo le forbici e tagliamoli io te lo tengo tu mettigli lo scotch qua più o meno ok così qui così non fa alzare tutta l'elica tutta l'elica e a questo punto lui in teoria è pronto per volare l'unica cosa per volare ha bisogno di energia e per dargli energia cosa dobbiamo fare attaccare questa montagnetta montagnetta e va bene vai attaccare questa montagnetta qui e vedete che l'elica sta girando ok l'accumulatore si sta ricaricando e quando io vado a toglierlo sentite ormai lui adesso è quasi carico perché in 10 secondi si ricarica tolgo tiro e praticamente questo aereo anziché andare che ne so a 3 4 5 6 metri ma che berlino 3 4 5 6 metri potrà andare fino magari a 30 40 50 metri quindi ovviamente va usato in un campo non in casa e se però vogliamo fermare l'elica che non si è ancora fermata ma vogliamo fermarla noi basterà mettere l'altro come vi ho detto montagnetto e voilà l'elica è ferma ma papà quindi possiamo farlo volare lì? no qua no neanche giù no ci vuole tanto spazio bisogna andare in un campo andiamo in valletta e lo proviamo capito? ok quindi questo l'abbiamo finito adesso dobbiamo montare il secondo la versione 4.0 cioè quella che un po' più da grandi da 14 anni in su quindi te non puoi usarla te puoi usare quell'altra quindi questa ha bisogno dello smartphone per essere pilotata con la sua applicazione e tutte cose che ho detto nel video dell'unboxing quindi adesso è arrivato il momento di montare il power up 4.0 allora iniziamo a aprire la confezione questa è la parte diciamo tecnologica del power up 4.0 andiamo a mettere un attimo da parte anche il cavetto non ci serve qua abbiamo il manuale di istruzioni anche qua come per l'altra versione vedete c'è il QR code che possiamo andare ad inquadrare con lo smartphone che ci rimanda a un video dove ci viene spiegato come piegare la carta nel caso non volessimo solo utilizzare le istruzioni cartaceche che abbiamo poi abbiamo questo cartellino con un QR code che ha questo taglio inclinato e dopo vi farò vedere a cosa serve e poi qua abbiamo questa bacchettina di plastica per irrigidire il tutto e qua abbiamo uno dei quattro fogli che troviamo inclusi nella confezione quindi detto questo iniziamo il montaggio allora posizioniamo le istruzioni qua davanti e iniziamo a piegare il foglio di carta allora andiamo ad aprirlo allora iniziamo col piegare prima questo giusto Sara? si te l'avevo pur detto ok grazie che me l'avevi detto poi pieghiamo questo cerchiamo sempre ovviamente di fare le due parti più asimmetriche possibili a questo punto dobbiamo prendere questo angolo piegarlo così quest'altro piegarlo così in teoria adesso devo piegare così devi pregare devi pregare no non pregare piegare così poi da questa parte lo pieghiamo così ok in teoria ci siamo a questo punto dobbiamo mettere un pezzo di scotch qua abbiamo tagliato il primo quest'altro uno qua che prende sia ecco abbiamo messo il secondo pezzo di scotch a questo punto cosa dobbiamo fare a questo punto dobbiamo piegare le ali che in teoria vanno piegate sulla linea tratteggiata quindi dobbiamo seguire questa linea tratteggiata che abbiamo qua sotto vado a piegare anche la seconda ala guarda che roba va che bello ok diciamo che si sembra un uccello è vero adesso dobbiamo andare a piegare le ali qua quella di qua prendi la forbice tu Sara che dobbiamo fare un taglio mi sa vai devi fare i tagli qua nel nero taglia bene dritta questi sono perfetto anche di qua quindi adesso gli diamo un po' così poi dopo vi farò vedere cosa serve quel cartoncino quel record che vi ho fatto vedere all'inizio allora quindi a questo punto penso dobbiamo andare a montare la parte elettronica quindi il motore e tutto quello che serve per pilotarlo dobbiamo andare a mettere questo astina di irrigidimento delle ali quindi va messo infilato così e poi fatto girare poi possiamo farlo scorrere avanti e indietro a questo punto dobbiamo andare a infilare questi due angoli qua sotto alle linguette qua del ricevitore bluetooth a quello che è la batteria quindi tutto il congegno elettronico di questo aeroplano poi andiamo a mettere un pezzettino di nastro allora mettiamo prima il pezzo qua dietro quello che va in irrigidire la parte dietro e poi l'altro sull'altra ala nello stesso identica posizione la cosa che volevo farvi vedere è il cartoncino questo cartoncino col QR code se voi lo scanalizzate il QR code vi rimanda a un video che vi fa vedere a cosa serve appunto questo cartoncino si vede che è una cosa che è stata aggiunta dopo quindi vedete che questo cartoncino a questo taglio qua in diagonale è quello che serve per dare l'angolazione al flap qua dietro quindi l'angolazione ideale è quella data da questo cartoncino a questo punto arriva la parte quella tecnologica di questo aereo quindi per prima cosa andiamo ad accendere il ricevitore che è qua sopra vedete abbiamo on off e si va ad accendere una luce blu qua sopra prendiamo lo smartphone allora una volta avviato il ricevitore qua sotto vedete abbiamo la batteria e qua dietro abbiamo la spinetta micro usb per usare il suo cavetto per la ricarica della batteria andiamo a far partire la sua applicazione Power Up 4 disponibile sia per iOS che per Android qua abbiamo tutti i vari tutorial abbiamo anche il rumore dell'aereo che si sente in sottofondo saltiamo il tutto e qua vedete che abbiamo Fly se clicchiamo su Fly possiamo già andare a volare a questo punto vedete che in alto a sinistra abbiamo la connessione Bluetooth quindi quanto è potente in questo momento il segnale Bluetooth e qua a destra la carica della batteria c'è il simbolo del benzinaio a questo punto è quasi scarico siamo al 22% poi qua sotto abbiamo i due diciamo controlli principali col pollice destro daremo gas vedete che l'elica è iniziata a girare se io accelero va pure avanti l'aereo e poi ovviamente lo fa scendere ed abbassare in base a come ci muoviamo e possiamo destra e sinistra e poi abbiamo l'altro controllo ci fa muovere l'aereo nelle altre direzioni quindi abbiamo questi due controller o altrimenti abbiamo quest'altra modalità cliccando qua sotto in cui ovviamente il gas lo daremo con il pollice sempre vedete però il movimento dell'aereo lo daremo muovendo lo smartphone quindi sarà lo smartphone che dà la direzione e l'inclinazione all'aereo vedete che si muove anche il piccolo aereo di carta è disegnato all'interno quindi abbiamo varie possibilità di utilizzo e poi abbiamo anche l'acro mode quindi la possibilità di volare completamente in acro quindi non utilizzeremo più quel poco di aiuto che abbiamo dal punto di vista del pilotaggio ma sarà proprio tutto nelle nostre mani poi abbiamo anche la modalità con la macchina fotografica che in questa modalità ovviamente non è funzionante perché dovremmo usare lo smartphone quindi basterà uscire da questa modalità e andare a attivare la macchina fotografica e vedete che potremmo inquadrare l'aereo con il telefono quindi il telefono registrerà quello che inquadra però abbiamo in sovraimpressione quelli che sono i dati di pilotaggio dell'aereo qua a destra abbiamo il pallino rosso per far partire la registrazione e poi tutto a sinistra vedete che abbiamo una funzione che è praticamente le regolazioni di tutto quello che è il comparto di volo vedete il pitch il rate il roll il rate del roll lo yaw il rate dello yaw e angle of attack quindi capite che possiamo andare a modificare veramente di tutto dal punto di vista delle caratteristiche di volo di questo aereo in maniera manuale se vogliamo intervenire altrimenti ovviamente lo utilizziamo così di default come ci viene dato però questo anche perché se dovessimo cambiare forma di questo aereo perché la cosa bella di questi power up è che si può fare anche degli aerei come si vuole infatti nel loro sito si vede veramente di tutto aerei fatti di polistirolo aerei fatti di cartone aerei fatti addirittura con una foglia di installata perché la parte diciamo il cervello è questo però quello che è la parte di carta la si può fare veramente in ogni forma e in ogni diciamo caratteristica ovviamente basta che voli quindi deve avere comunque un senso logico nella costruzione di volo poi tornando invece alla home all'inizio vedete che abbiamo 8, 10, 8 che sono le caratteristiche impostate in questo momento di volo quindi queste sono quello di default per quanto riguarda il tipo di volo di questo aereo però andando a modificare i parametri queste caratteristiche potrebbero andare a cambiare quindi a questo punto è arrivato il momento di andare a provare questi due power up sempre che li abbiamo assemblati giusti e piegati giusti abbiamo fatto tutto giusto li andiamo a provare immediatamente quindi proveremo power up 2.0 che è quello costruito e di proprietà di Sara e poi il mio power up 4.0 quindi di proprietà di Andrea quindi prendi il tuo power up prendo il mio power up andiamo grazie a tutti grazie a tutti